Mi sta pagando una cosa che non è una notizia. Mio marito va in galeria per una gentilità, per falsa testimonianza, per tutte cose. Non la faceva uscire mio marito, non la faceva uscire. Non faceva uscire gli uomini. Che è troppo geloso dei figli mio marito. Non ho neanche il colloquio a mio marito, neanche la roba mi fanno portare. Oggi è andata l'avvocato. Come mai? Fino avevo 33 anni. Io alla domenica per uscire, anche lato mio fratello, per uscire mio papà ci chiamava. Dove siete? Cosa fate? Chiunque parte. Penso che chiunque padre chiede cosa fanno i figli e cosa non fanno i figli. Ho sbaglio. Ma è come me, mio padre. E questo mi fa sempre nel cuore. Ma che è questo mio papà? E' uno severo, buono, buono. Mio padre è uno, non so come dire, è uno molto buono, bravo. Ha avuto sempre bene i figli. Sempre. Sempre. E' un po'! E' un po' inήmce l'ubile. E' uno dei鎮 E' uno dei dott bekommen. I ah il ritmo! e di nuovo la arpa di stuma, arpa di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo Sottotitoli! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. . . , a tutti. a tutti. , 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 ,, ,,, 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 ,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 a tutti.